Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. L'emergenza che noi abbiamo raccontato negli ultimi mesi e sulla quale chiedevamo anche insieme all'Abbia, all'Associazione Bancaria Italiana, una soluzione. Il decreto interviene sul futuro. Quindi dice che dal 17 febbraio in poi, tranne quello che è in corso, i crediti d'imposta non potranno più essere ceduti. Credo scusi se l'è troppo che con Fedelizia mi ha chiesto di spostare più in là nel tempo questa data, ma questo riguarda il futuro. Sì, certo al tavolo si sono chieste delle proroghe per determinate situazioni. Noi siamo andati al tavolo molto allarmati perché blocchi il futuro senza risolvere il passato è veramente terrificante. E sul passato? Allora diciamo sul passato che è importante. Devo dire anche che noi abbiamo rappresentato al tavolo, dal punto di vista proprio come nota politica, che la narrazione di 2.000 euro a carico di ogni cittadino non è stata una bella narrazione. Ma perché tutto, allora, la transizione ecologica ha un costo e su questo dobbiamo saperlo. Adesso sentiamo anche il professor Giovannini che ci deve dire qualcosa su questo capitolo, scusi, prego. Buongiorno. Tutto ha un costo, tutto ha un costo, la sanità ha un costo, la scuola ha un costo. È una misura straordinaria nata in un momento straordinario di recessione con il settore dell'edilizia da 12 anni in crisi. Non era per sempre, perché nessuno di noi ha mai pensato, che ha contribuito a quel PIL straordinario del 2021 e del 2022 attraverso circa per il 30% il settore edile. Attraverso quel PIL si sono potute fare tante cose, anche mettere i soldi per il caro Bollette, anche mettere i soldi per le casse integrazioni Covid. Quindi non sono soldi buttati. Poi c'erano degli errori, sì, c'erano delle regole scritte male, assolutamente, specialmente sui bonus, non super bonus, bonus facciate e bonus ordinari. Qui non c'era la qualificazione delle imprese, che è una cosa che Lancia ha chiesto sin dall'inizio. Sono soldi pubblici, chiedete almeno che le imprese siano qualificate. Noi questi gridi di allarme li abbiamo lanciati. Ma adesso qual è la soluzione alle viste sul passato, sul pregresso? Cercando di dirle in parole semplici, che al di là di un'ulteriore eventuale capienza del sistema bancario, che forse qualcosa c'è ancora, poter utilizzare i correntisti che pagano gli F24 nelle banche, far sì che le banche possano utilizzare quegli F24, quindi le tasse dei correntisti, per compensare il proprio credito fiscale. Quindi io verso in banca il mio F24, in realtà la banca incamera quei soldi e compensa per mio conto. Se posso interroguire, l'avevamo presentato ai tempi degli aiuti quater, esattamente come emendamento. Ed è stato respinto da mesi che ne parliamo. Sono certo di quello che dico, presentato alcuni mesi fa, bocciato, respinto dalla maggioranza, purtroppo...